Quarta giornata in programma nel campionato di A2. Domani pomeriggio al Palla Unimol la sfida tra il CLN Cusmolise ed il Real Rogit. Barichello e company hanno tutte le intenzioni di proseguire il Magic Moment, tre vittorie in altre tante gare di campionato. Bottino Massimo con grande soddisfazione da parte di tutto l'ambiente cussino, sempre in ottica salvezza diretta. Di meglio non si poteva fare in ordine di tempo, convincente anche l'ultima vittoria a San Michele di Bari. 5-1 il risultato finale grazie alle reti di De Betio, Cioccia, Triglia e alla doppietta dell'asso brasiliano Barichello. Insomma, Sanginario gongola e ha preparato i suoi al match in programma domani, sicuramente il più probante da ogni punto di vista. Il Real Rogit, squadra di Rossano Calabro in provincia di Cosenza, ha sette punti in classifica, due vittorie ed un pareggio a Rutigliano. Punti a parte il team calabrese a belleità di alta classifica, con un roster allestito per puntare ai vertici del campionato. Ricordiamo lo scorso anno la sconfitta nella finale play-off contro il Sandro Abate ed il mancato ripescaggio in Serie A1. Insomma, il team di Rossano è senza dubbio favorito per la vittoria finale. In un collettivo da primato emerge sicuramente il brasiliano Silori Junior, laterale pivot 34enne. Lo scorso anno autore di ben 45 marcature, sempre con la maglia del Real Rogit, capocannoniere di tutta la Serie A2 nella passata stagione. Quest'anno condivide al momento lo scettro dei bomber, proprio con Matteus Barichello a quota sette reti. Insomma, un giocatore di livello altissimo, pronto a giocare sul parquet del Palau Unimol. Da segnalare anche l'altro brasiliano, Gustavo Bavaresco, in rete già quattro volte in tre match di campionato. Per i cussini in settimana l'ufficialità di due innesti, precisamente il centrale ex capitano storico della Chaminade Francesco Pizzuto, che va a consolidare la colonia di Mollisani in organico, ed il laterale Leonardo Gasson. Già da tempo con la squadra, solo in settimana, si sono sbloccate le pratiche per il transfert. Insomma, due pedine importanti che vanno ad arricchire l'organico alle dipendenze di Sanginario. Manca a questo punto solo Gustavigno, altro brasiliano, in attesa sempre del trasferimento. Domani previsto il pubblico delle grandi occasioni al palazzetto universitario, per un match di cartello che da anni non si viveva nel capoluogo di Regione. Dopo la sconfitta maturata a martedì in casa, Coppa Divisione contro il Bernalda, la Chaminade è pronta per la terza giornata del torneo di Serie B. Nel girone G, i rosso-blu, dopo il pareggio nel derby contro lo Sporting Venafro, sono attesi all'Aquila. Come detto, una X dalle mille emozioni sabato scorso, un derby che ha regalato gol, giocate, emozioni, cartellini e tanti spunti tattici. I rosso-blu, capaci di rimontare tre reti ai venafrani nei minuti finali, devono ora tornare al successo in terra abruzzese. L'equilibrio nel girone è già palese, basti pensare che nessuna squadra è a punteggio pieno. Questo vuol dire che ogni gara rappresenta delle insidie, come nei pronostici di inizio campionato. Siamo alle prime battute, ma il campionato è corto, con sole 22 giornate totali, di cui già due andate in archivio. Va da sé che ogni partita assume un valore di maggiore importanza. Ecco perché per disputare un torneo di vertice, come negli obiettivi della Chaminade, c'è bisogno subito di riprendere il cammino. L'Aquila temibile in casa, il pareggio all'esordio contro il Molfetta, dimostra la bontà della squadra. Gli abruzzesi sono reduci dalla batosta in casa del Canosa, un 7-3 senza scusanti. Ecco perché ci sarà sicuramente voglia di rivalza, soprattutto sul campo amico. Mister Tavone deve contare l'assenza dello squalificato Paoligno, elemento di spicco della Rosa, e valutare le condizioni di Oriente uscito malconcio dal derby. Mentre è praticamente ristabilito lo spagnolo Canzio Rodriguez, già in campo sabato scorso per il laterale, una settimana di allenamenti per ritrovare la forma migliore dopo lo stop di due settimane. Appuntamento a domani dunque per un nuovo sabato di Futsal, con le nostre rappresentanti regionali, pronte ancora una volta a recitare un ruolo da protagoniste nei rispettivi tornei.